Salve a tutti, qui Antonio Cianci, recentemente ho assistito a un concerto, il concerto di una delle mie cantanti preferite, Chieza per molti, ma per gli amici Kaisa, canadese, che ha esordito con Idaway, un successone a livello internazionale, ai tempi non mi piace particolarmente, continuavo a domandarmi nell'estate del 2014, quando passava alla radio Idaway, ma una cantante che si mette a fare ua può fare successo, può battere cassa per riscuotere qualcosa, e allora tutti possono cantare, mi sbagliavo di grosso. In una stazione radio, non mi ricordo quale, avevano fatto passare la versione acustica di Idaway, una voce spettacolare, da far venire i brividi, e da lì acquistai tramite iTunes l'album di debutto Sound of a Woman, vi consiglio di fare una passata di tutti i brand al suo interno, lei dona inaspettatamente un'anima soul in una struttura, in un impianto di base dance rock, e l'album è trascinante e magnetico. Non dilunghiamoci oltre, eccovi il montaggio video del concerto dell'11 febbraio 2015 ai magazzini generali di Milano, purtroppo scoprì successivamente che avevo sempre avuto per tutto il tempo il microfono spento durante le riprese, e quindi, mannaggia a me, dannatissimo, e quindi ho dovuto rimediare con un montaggio video veloce, schietto, con sottofondo musicale di due suoi brani di successo, e mi scuso per il copyright sfruttato. Enjoy the show! Grazie 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 ah e prima di lasciarvi se c'è qualcuno che la sta ascoltando in questo periodo ecco vi chiedo qual è il vostro brano preferito e vi incito anche a guardare i suoi videoclip ufficiali girati in piano sequenza un saluto a tutti ciao alla prossima